Bergen, azienda di Casteldazzano specializzata in prodotti aerosol per i discount, la grande distribuzione ha festeggiato i 50 anni di attività. Signor Biasi, come è nata la Bergen? Prima facevo il rappresentante e mi hanno trattato male e allora ho cambiato ancora e sono andato a presentarmi a Cremona e ho detto non mi prendono. Non mi prendono perché non sai parlare, sei timido, non ti prendono. Infatti sono venuto via tranquillo, dopo un mese mi chiamano e mi prendono e dopo invece 3-4 anni sono diventato uno dei migliori rappresentanti che avevano. Tanto che mi avevano fatto un'altra proposta di fare il concessionario e anche lì dovevo fare una certa cifra per raggiungere un premio. Sono arrivato alla cifra per raggiungere il premio, non volevano darmi il premio e allora li ho mandati a farsi benedire e ho cominciato a farmi i prodotti da me. La storia parte appunto quando mio padre partiva con una di queste vespette qua e andava in giro a cercare di vendere 2-3 bombolette alla volta. E da lì di strada ne abbiamo fatta, siamo arrivati a fare quasi 30 milioni di pezzi in un anno. Facciamo prodotti a marpio nostro, in conto terzi per tutta una serie di clienti in Italia e all'estero. Serviamo quasi ormai tutta la più grande distribuzione italiana sia nel discount che nella GDO. È un'azienda importantissima come tutte le aziende che arrivano a 50 anni di storia, perché pur con tutte le difficoltà della burocrazia, non solo quelle di mercato ma della burocrazia, che scoraggiano questi imprenditori, loro sono sempre la molla del nostro progresso. Quindi tanti auguri per altri 50, 100, 150 anni di prosperità e progresso e lavoro per tutti come ha fatto Bergen in questi anni.